ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi vi parlerò di questa chiave inglese con blocco della parkside con un sistema particolare che ci permette di utilizzarla diversamente dalle classiche chiavi inglesi a cui siamo abituati l'ho comprata oggi 28 giugno 2021 al leader da 8 euro e 99 e ora la metterò alla prova vedremo come è fatta e vedremo come si utilizza iniziamo guardiamo pure l'etichetta sulla parte posteriore chiave inglese con blocco lunghezza 25 cm per rimuovere anche vite e dati arrugginiti ora vedremo perché questa chiave indicata per questo tipo di lavoro è prodotta dalla con metal maser in germania quindi dovrebbe essere un prodotto di buona qualità e già il peso lascia capire che si tratta di un prodotto di buona qualità rimuovo le fascette e apro la leva premendo questa parte più scura in questo modo posso liberare il dado che stretto al suo interno e vediamo la chiave da vicino allora è la classica chiave a rullino la chiave inglese regolabile come sono regolabili queste due la differenza fra questa e quelle è la qualità perché è una chiave inglese è fatta davvero molto bene dalle incisioni al materiale il peso il sistema di blocco il movimento è tutto fluido questa parte alta e lucida e il resto invece una finitura opaca tutte le fresature sono fatte bene non ci sono sbavature gli angoli sono perfetti in tutto e per tutto le incisioni con riportate alla misura sono pure perfette il movimento è fluidissimo scorre perfettamente senza alcun tipo di inceppamento sulla parte posteriore c'è l'incisione con il nome del produttore quindi con metal maser germania questa è la leva che ci permette di bloccare e la leva bloccare questo movimento del tutto normale e non è da considerare un difetto ora vediamo qual è la sua caratteristica cosa serve questa leva e perché ci torna utile facciamo la prova quindi con una chiave inglese che non abbia questo sistema allora stringendo un dato al suo interno e girando con forza il rullino il dato viene bloccato come faremo anche con l'altra però come vedete si muove perché non avrà mai la forza giusta per dare un serraggio corretto alla vita e questo va a provocare a poco a poco visto questo piccolo movimento che si forma un arrotondamento degli angoli soprattutto se non cerriamo correttamente lasciamo ancora più gioco sicuramente andiamo a provocare un arrotondamento degli angoli quindi poi alla fine danneggiandosi il bullone sarebbe praticamente quasi impossibile da svitare sia con una chiave grande e una chiave più piccola per quanto noi possiamo girare il rullino ci sarà sempre la possibilità di muoverlo invece con questo sistema abbiamo la possibilità di avvicinare stringere ovviamente si muove anche in questo caso ma serrando con la leva non si muove più assolutamente è completamente serrato al suo interno proprio per questo motivo quando si tratta di dover svitare dei bulloni che siano arrugginiti con un serraggio corretto non c'è il rischio assolutamente di danneggiare il bullone perché stringe crea una pressione omogenea su tutta la parete esterna del dato e ci consente di svitarlo questo sistema ovviamente è ideale quando lavoriamo per esempio sui nostri mezzi macchine o moto quante volte ci è capitato di dovere stringere un dato da una parte dovere bloccare dall'altra parte possibilmente siamo soli non c'è nessuno che tiene dalla parte opposta una chiave e quindi siamo costretti a utilizzare una chiave ad anello quindi appendendola oppure in questo caso basterebbe serrare la chiave rimarrebbe al suo posto e potremmo lavorare dalla parte opposta va benissimo anche per bloccare però le barre filettate quindi se io inserisco questa barra filettata al suo interno e la serro avrò la possibilità di mantenere la barra filettata in questo modo senza alcun problema comportandosi praticamente come questo tipo di chiave che ci permette di lavorare con una mano e serrare barre filettate eccetera ovviamente questa funge da pinza quindi ci permette di fare altri tipi di lavoro ma questa per quanto riguarda barre filettate dadi bulloni eccetera è un sistema davvero comodissimo quante volte ci è capitato durante i lavori per esempio di idraulica di doverci disperare perché dobbiamo tenere ferma la chiave magari una chiave a parola e dover lavorare sul tubo flessibile che continua a girare invece andrebbe mantenuto fermo in questo modo riusciamo a bloccarlo e sbloccarlo semplicemente con una mano e lavorare con molta più comodità adesso vediamo pure la sua precisione ho centrato alla freccetta che indica il 10 quindi dovremmo avere 10 mm di spazio all'interno vediamo se ci siamo 10 mm e 35 praticamente perfetta poi serrando la leva ovviamente andrà a stringere quindi lo spazio si ridurrà semplicemente geniale e allora ragazzi quindi cosa dire di questa chiave inglese a rullino con leva ad una mano la chiave a scatto davvero fantastica ho visto che su amazon costa addirittura una cinquantina di euro vi lascerò il link di un'altra marca ovviamente per vedere quel prodotto se ho dimenticato qualcosa ricordatevi di scrivere giù nei commenti chiedere io risponderò più presto possibile ma rispondete anche fra di voi perché ho notato con piacere che molti di voi nei commenti rispondono e risolvono tantissimi dubbi quindi cosa dire ragazzi vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi il mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto lo avete ritorno utile e ci vediamo ai prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto